Non credo che succederà mai quello che è successo a Vicenza. Rassicura così il sindaco Mario Conte dopo che nel Vicentino il sistema di accoglienza migranti è andato in tilt. Piccoli gruppi di richiedenti asilo provenienti dal centro smistamento di Mestre lasciati davanti ai municipi di Altaville e Sovizio, secondo i sindaci, con troppo poco preavviso creando un vero e proprio cortocircuito del sistema, oltre che non poche polemiche. Un braccio di ferro burocratico tra prefetture e sindaci in attesa del nuovo protocollo d'accoglienza diffusa. Stiamo attendendo la convocazione da parte del prefetto di Venezia. Penso che nei prossimi giorni, la prossima settimana, saremo pronti a sottoscrivere questo protocollo che di fatto è una condivisione di intenti. Scriviamo quelle che sono le regole del gioco per evitare situazioni come quelle di Vicenza o per evitare ancora di più situazioni come quelle che hanno caratterizzato in passato i nostri territori, dove un numero importante di migranti veniva riversato senza regole, senza prospettive, senza futuro, magari in un solo comune o in un solo centro di accoglienza. Richiedenti di asilo che la città di Treviso è pronta ad accogliere. Noi oggi nella Caserma Serena abbiamo più di 400 persone e abbiamo altri centri di accoglienza distribuiti nel territorio e poi abbiamo anche un percorso di accoglienza attraverso il progetto SAI, che è un progetto che riguarda i richiedenti asilo, quelli che hanno già ottenuto lo status di rifugiato politico e ne abbiamo altri 49. Quindi Treviso sta dando dimostrazione che attraverso una politica responsabile, attraverso il buonsenso, si possono ottenere dei risultati importanti. Saranno 4.000 emigranti attesi in tutto il Veneto, provenienti soprattutto dall'Africa ed è in questo clima di emergenza a flusso che Mario Conte, in veste di Presidente Anci, fa un appello ai sindaci del territorio. L'appello che faccio è quello di agire in modo responsabile, senza trascurare le proprie comunità, senza stravolgere i propri bilanci, senza mettere a repentaglio la tenuta dei comuni, ma mettendoci anche una mano nel cuore, perché dobbiamo comunque pensare che stiamo parlando di persone che scappano dal loro Paese e che oggi vedono nel nostro Paese un punto di riferimento e un punto di salvataggio.